Se chiedete ad un giovane come immagino il suo futuro affettivo, in 8 casi su 10 vi risponderà a crescere uno o più figli. Un desiderio destinato però a dimezzarsi in età adulta, quando la spensieratezza adolescenziale lascerà spazio a problemi economici e di coppia, infertilità compresa, e solo un piccolo frame della fotografia scattata dallo studio nazionale fertilità, promosso dal Ministero della Salute per raccogliere informazioni sulla sfera sessuale e riproduttiva degli italiani. C'è un grandissimo gap informativo per i giovani sul tema della sessualità. Naturalmente noi abbiamo analizzato l'aspetto relativo alla salute, quindi non entriamo in altri settori, però sicuramente su questo ci sono tantissime informazioni che ai giovani bisognerebbe dare. Ovviamente non possiamo affidare solamente all'internet la diffusione delle informazioni, anche se su quello ci voglio lavorare, cioè voglio creare una data base di informazioni verificate, sia per i giovani ma anche per noi adulti, perché sappiamo che tutti andiamo su internet a cercare sempre notizie. Migliora la conoscenza sui fattori di rischio, sulle infezioni, malattie e trasmissione sessuale, come l'epatite virale, la sifilide, la gonorrea, il papillomavirus o la clamidia. I consultori restano dei luoghi quasi sconosciuti, frequentati dal 3% dei ragazzi e dal 7% degli adolescenti. Tra i metodi contraccettivi, il preservativo e la pillola, sono i più conosciuti, anche se il 10% non fa uso di alcuna precauzione. Ma su una cosa sono tutti d'accordo. Il 94% dei giovani ritiene che questi argomenti dovrebbero essere trattati tra i banchi di scuola ed è proprio in risposta a questa esigenza che il Ministero, di concerto con il MIUR, sia attivato per promuovere la salute nelle scuole. Credo che l'insegnamento della scuola di temi legati alla sessualità riproduttiva possa fornire un punto fermo di informazioni certe e verificate rispetto al non avere informazioni o avere informazioni falsate. Quindi speriamo che da questo protocollo di intesa col MIUR nasca intanto la strada per insegnare la salute nelle scuole e da lì poi per avere un capitolo dedicato alla salute riproduttiva e alla sessualità.